Ragazzole ragazzole, benvenuti a tutti quanti in questo nuovissimo video di Fortnite. Oggi siamo qui con una grandissima missione portata a termine perché ho portato la signorina Queen Georgina direttamente al Rank Unreal nella nuovissima season in soli 5 giorni, letteralmente in tempo record. Infatti come vedete siamo qui in lobby con la signorina Georgina con il suo bellissimo Billy l'alieno che flexa il Rank Unreal in tutto il suo splendore. Oggi ragazzi andate a vedere delle partite davvero spettacolari perché ho fatto dei clutch veramente pazzeschi. Infatti abbiamo portato la signorina Georgina sulle spalline però mi raccomando non diteglielo troppo. Quindi ragazzoli prima di cominciare col video mi raccomando un bel pollice in su, iscrivetevi al canale se l'avete ancora fatto e vi ricordo che mi trovate live su Twitch tutti i giorni dalle ore 17, quindi vi aspetto anche soltanto per un saluto. Infine ragazzi se volete potete supportarmi nello shop di Fortnite utilizzando qui in basso a destra il mio codice creatore che è Croatomist. Se shoppate qualsiasi cosa mi raccomando taggatemi su una storia di Instagram che ve lo andrò a ripostare e vi manderò anche un ringraziamento in privato. Ora però ragazzi è di non perderci chiacchiere e di passare al gameplay. Io vi auguro una buona visione. Ci contestano. Landi benissimo tu. Landi, prendi questa arma. No chicca, hai un problema ti giuro. Arrivavo lì. Non andare sola. Vieni a farti pari di fast, vieni a farti pari di fast. Vinciamo subito di fight, te lo giuro. C'ho pompa, pure e scar tutto. Andiamo sul tetto. Uno di vita, morto. L'altro? Sarà qua, sarà qua. Non l'avevo sentito però prima lui. Stanno fightando di dietro, meglio che ampererei la card. Ma non aveva contestato, sei sicura? Il mate? Cioè. Però dopo, perché se no questo qua l'ha andato late, quello l'ha andato male, ha detto non vengo. Ma io così... Arriva uno, arriva uno, te lo dico, è sopra la montagnetta sud. Uno o due? Mi sta spaccando gli alberi. Secondo me aveva visto la copoletta dentro, vediamo. Aspetta. Da me? L'hanno craccato, l'hanno craccato, l'hanno craccato. Quella lì è un solo, quella lì è una duo. Devo curarmi. Ok, è una duo. Arriva da me, se vedi che c'è. Il quale vuole l'altro però, che p***e è? Il mate? Eh, da dove però? Ma questo è un solo però, era. Sì, sì, sì. Dammi una mano però. 25. 75, 75, crack. White, 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 white. Fatto, fatto, fatto. Solo preso. Straccato? Vai, vai, vai. Io non ho moving, eh. Arrivo di sotto la montagna. C'è uno sopra che spara, Kikah. Là sopra, stai attenta. Aspetta, Kikah. Stiamo qua da te, Kikah. Morto, morto, morto. Devono uscire questi. Che cosa vuoi, Tai? Vai. Eccolo. Prendo volo di destra io. Morto. Arrivo da te. Peace. Arrivo un altro, arrivo un altro da dietro. Morto. Che nuota. 21, io ho fatto. Ho fatto una due, io. Peace. Sono un attimo sola, sono un attimo sola, sono un attimo sola, sono un attimo sola. Sì, sì, sì. Arrivo da te. Peace. 130. Box, box, box. Morto uno, lockato. Muoio, 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 muoio. Fai, fai hardball, fai hardball, fai hardball, tini. Ok. Fai, vai. Non è mio. Di qua. Adesso. Sotto. Morto. Può andare a gnazzi. Caccato. Uno di vita, uno di vita, uno di vita. Te lo giuro, uno, non scherzo. Ti puscia l'altra, attenta. Oddio, caccato l'Eco. Quando è notato. Oddio, caccato l'Eco. 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 Morto. Vieni. La tiriamo, guarda che sale. Tre, dove di? Sulla scala, sulla scala. Tre, due, uno. Uno di vita, uno di vita. Vabbè, hai capito. Uscia questo qua subito. Triplo. Box. 200. L'hai sentiti? No, c'era il cavoli. No, c'era il cavoli a bordo, safe. Arrivano, arrivano, eccoli, eccoli. Mi shifto? Spara la macchina, spara la macchina. 34. 26. Knock, 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 knock. 109. 109. Qua sotto. Reboot qua, brawler, vieni. E' morto? E' morto? E' l'altro? Eh, sarà qua. Guarda di me. E ti sei doppio nel cavolo, da solo. Corro, 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 la macchina. Non è da solo, non è da solo. Lo uccido, lo uccido così. Ok. Buono l'impulso o andata? Eh, eh, infatti. Ah, non lo spotter. 26, doppio. Ho bisogno. 69, crack. Stai sola, 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 sola. Stai sola, 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 sola. Ok. Spotta, non verrà in luce. Ficca, deve andare avanti, deve andare avanti. Vai, 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 vai. Presa la macchina. Quanti mazzai? 5, 1, 2. 39, doppio, tipro. 51, 34, alla tipa viola. Madonna, ragazzi, vi giuro, vi odio. 26. Sarà, 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 così vengono la kill. 26. White. Ho visto. Svorto. Bravissia. Vieni, knock. Vieni, vieni. Vola, vola, kick, viene avanti. 100. Morto. C'è un caccuso avanti. Craccato. Quanti colpi aree hai? Quanti colpi aree hai? 490. Ok. Faccio questo fungo. Andiamo di qua a sinistra, secondo me. Sì, 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 però dovevo prendere il fungo, un attimo. Morto, morto, morto. Però va anch'io, eh. Vai tranquilla, ci penso io, ci penso io, ci penso io, tu gioca. Non ho fatto male. Pizzo. Morto. C'è un'altra. C'è un'altra. C'è un'altra. C'è un'altra. C'è un'altra. Se ne lo so. Craccato di Nike. Morto, morto di Nike. Mi segui, mi segui, mi segui. Corro da te. Sono qua da te. Non ho caduto le Nike. Morto. Guarda me c'è gente. Hai ricordato le armi. Se fa la mano. Guarda se sono. 34, ok, chiuso. L'accia un'altra. Di dietro. Distrutto. 70, crack. Ah, sei tu, ma va. Uno in Nike. White. Ho chiuso uno, forse fuori. Sono one hit io. Tranquilla, io sono in Nike. No, sono morto. No, vabbè, 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 tranquilla, vabbè. Mi ho aiutato benissimo. Questo qua sotto è un... Aspetta, ma sound, 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 ma. Uno v, uno v, uno. Ok? Sì. Madonna. Hai mazza? Sì, 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 da quella. Questo qua era quello che avevo qui fuori. Dovrebbe essere messo male. Anderra. Allora. Sì. Sì. Anderra. E questo per me era per inaugurare la Rial in bellezza Onestamente 16% sì ma stai scherzando Buonissimo Sì buono Fai torno davanti Buono questi da prendere Hanno fatto un cuore Non mi fido io Ho paura anch'io Voglio vedere chi ha Come fai a scoprirlo 30% Ma la gente toglie un casino Chica io sto andando via Lo speio Raccato uno di vita uno di vita uno di vita Te l'ho fermato il più possibile Ok chica guarda la mia vita Ok te l'ho fermato come non mai Cioè l'ho disintegrato questo Impulso non so se lo vuoi C'è una macchina che arriva verso di te Che si è bianca Snap Non so se lo spacco Se lo spacco la macchina Distrutti 74 stand al 5 Uno di vita Morto uno Morto Arriva team 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 Ho messo Ardol Mi sono spostata dietro Lo sto spammando Ti tocco l'inbe Brava Menti Passi Salgo Questi Qualche non so Chica qua Deci curarti? Devo curarmi Sì Mi cura anch'io Il là è nell'angolo Vieni a destra Vieni a destra Qua da me Un solo Distrutto One hit One hit One hit Kika Dopo 26 white È morto È morto C'è uno che C'è gente che poi entra Kika Il loot va lì Ed è La mia viaggia Capito Lì poi è safe No no crackato Vieni Aspetta Ok Vieni a sinistra Ok Là è safe Dovremmo poi andare Pronta Spottata Craccato Appena si apre Andiamo Servono mazze Serve roba Pizz Uno Impulso E rimaniamo in alto Andiamo poi in zona C'è andiamo in high Vieni Vai In high Lasciata la sera Ma non sale più di così Kika Non bisogna Non bisogna Sono qua da te È white Aspetta In sera Non si stanno attaccando Stanno teamando questi qua Stanno teamando Non si stanno attaccando Lo so Lo so In solo Sto seguendo con la duo Va bene Sì dai Va bene Morti in high Morto 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 Bravissima Impulsi in high Non ho pure Non ho pure purtroppo White Non è white Scusami Quello te l'ho preso White Ho recuperato il kit Kika Te ho recuperato il kit Kika Lascialo Eh no niente C'è lui Cristo Oh mio dio CT Ok l'altro Forse era sopra Tata ma Te la vinco Sei la più forte Let's go E finalmente abbiamo dato un cacchio così Ce l'abbiamo Ce l'abbiamo Kika Let's go Real Ah ruttino Ah io l'ho fatta inizio game Tu lo fai adesso Best combo Abbiamo la real Let's go Ah top mille tonda Kika Ragazzi Sì il claccio Il claccio inclacciabile Hai fatto un claccio inclacciabile Bene ragazzi Obiettivo raggiunto La signorina Giorgina Come vedete Chiaramente è in rank a real Quindi sono molto molto soddisfatta Se questo video vi è piaciuto Mi raccomando Un bel pollicione in su Per supportarmi Iscrivetevi al canale Se l'avete ancora fatto E se volete godervi Altri momenti Come questi del video Non dovete fare altro Che passare in live Su Twitch Tutti i giorni Dalle ore 17 Trovate il link Qui state in descrizione Inoltre vi ricordo Che anche sul canale youtube Della signorina Qui in Giorgia Trovate il video Di quando ha raggiunto La real con me Quindi mi raccomando Datela a dare supporto Anche a lei E commentate sotto al suo video Con vengo da Croatomist Ora ragazzi Noi ci voglio salutare Ma non vi preoccupate Perché chiaramente Ci ribecchiamo In un prossimo video Dalla vostra Croatomist È tutto Bella a tutti ragazzi